Non si fermano le dimostrazioni e le tantissime richieste di genitori e quanti nella scuola Mazzini riconoscono il simbolo di una scolarizzazione importante nel cuore della città, punto di riferimento per tantissime generazioni che dovrebbe rimanere tale, mentre molti sono i progetti che ne snaturano la sua innata vocazione. Oggi è un genitore a battersi per la Mazzini e chiamare Rete Veneta affinché questa scuola dalla lunghissima storia non sia destinata ad usi diversi ma semplicemente torni ad accogliere i bambini in classe. Credo sia una cosa importante che possa rimanere, possa riaprire, rimanere aperta e funzionante. Io ho un bambino che comincerà la classe prima a settembre del 2021, la classe prima elementare qui in questo istituto e l'abbiamo iscritto qui. Una battaglia che sta portando avanti come genitore, come educatore e insegnante di scuola media e come parte del coordinamento del gruppo Bassano per tutti. La mia battaglia è che la scuola possa tornare ad aprire e che dentro ci possano stare i bambini che devono starci, motivo per cui la scuola è stata costruita ed è in piedi. Ma c'è un altro motivo di disappunto. E anche perché gli spazi della scuola media potevano andare bene per un anno ma non sono adeguati sul lungo periodo, sono troppo pochi, troppo piccoli e c'è promiscuità con l'altro grado di istruzione. Una scelta quella di vivere a Bassano ormai da qualche anno? Io ho scelto di vivere a Bassano ormai più di 12 anni fa per seguire mia moglie. Lei come tanti dei nostri parenti e tanti dei residenti anche del mio quartiere Marnian hanno frequentato questa scuola ed è una scuola importante perché la scuola del centro è l'anima dei bambini di questo centro e pensiamo che debba continuare ad avere un futuro.